Partiranno il 18 febbraio i nuovi orari della ZTL in via Top, via De Lollis e Corso Maruccino a Chieti. Un cambiamento anche nella cartellonistica in quanto verrà giunta l'indicazione ZTL in bondo da permettere agli automobilisti di non confondersi. L'assessore Colantonio spiega che la ZTL ha portato gli automobilisti ad essere più attenti e che inoltre ciò potrà aiutare un miglioramento della vita in centro storico e quindi un maggiore rispetto per i monumenti e per le vie di passeggio. Cambieranno appunto gli orari della ZTL, in che modo e quando avrà luogo questa attuazione? Le modifiche riguardano sostanzialmente tre zone della ZTL, Corso Maruccino per il quale verranno ridotte gli orari di passaggio, cioè la mattina viene anticipata di un'ora dalle 5 alle 8 la possibilità di transito in quanto c'era una richiesta specifica dei fornitori di panetterie, di giornalai e distributori giornali. Mentre il pomeriggio sarà aperta solo per un'ora la possibilità del barco sul Corso, dalle 15 alle 16. Mentre su via Toppi e via Cesare dell'Ollis, che erano le vie un po' dove le organizzazioni relative ai commercianti e anche agli ordini professionali, hanno fatto maggiore segnalazione relativamente alla possibilità di poter estendere il transito la mattina per poter in qualche modo favorire le attività che sono sulla zona. La cartellonistica che c'è attualmente riporta ancora i limiti orari che ci sono. È chiaro che un eventuale ritardo comporta chiaramente un'attenzione da parte dell'ufficio per quanto riguarda le entrate in vigore.